Musica Musica e non la sostiene a prendere morti a una sosseguita che può dire che ci sono un'attività e che ci sono un'attività di un compagno durante il nostro tempo di portare a passò nei campi che si è passata nel 1976, non è un'attività un po' importante, infatti un archivio con un parteniale informatico di quasi 590 mila di processi, dal 1976 ha mandato tutta l'attività parlamentare dei deputati, poi quella del Senato della Repubblica e questo è un punto molto innovativo di fare informazioni perché non c'è stato il filtro della televisione, quindi il filtro dei giornali che molto spesso possono anche deviare o impulsare, è un modo di fare informazione oggettivo, informativo e per questo motivo il Comune di Pledgio come tanti altri comuni in Italia ha deciso di sostenere la vicenda di Radio Radicale augurandoci, perché quindi anche noi arriviamo all'appello che la confezione di scadenza a maggio 2019 possa essere rinnovata dal Ministero dello Sviluppo Economico e si possa continuare a dare voce a questa intenta di che praticamente ha fatto conoscere il più completo l'80% dell'80% della popolazione nazionale che ha fatto conoscere tanti processi, tanti processi importanti e tutti i lavori che si sono fatti davanti al rapporto costituzionale, davanti alle camere, davanti al Consiglio Spirito della Magistratura. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille.